Una leggera pioggia ha accompagnato questa mattina la cerimonia di scopertura del nuovo stemma della città di Fano posizionato all'ingresso del comune in via San Francesco d'Assisi. Diversi i ritocchi apportati dall'artista fanese Sergio Carboni che ha voluto regalare alla città questa nuova opera visibile d'ora in poi a tutti i cittadini. Devo ringraziare il sindaco, l'ha aggiunta tutto il consiglio che per avermi dato l'opportunità dopo 40 anni di aver rifatto lo stemma, 40 anni fa il primo l'avevo fatto, avevo 43 anni quindi è una bella meta, una bella tappa, un bel evento. Ne abbiamo approfittato di cambiare il logo, questa è ministeriale, da allora ha cambiato qualcosina, per me forse era più bello l'altro, più decorativo, più caldo. Sono state trasformate l'alloro e la quercia che sono attorno sono state rimpiccolite, la fassa sotto è rimpiccolita mentre l'altra prendeva tutto il marchio, i colori sono gli stessi, la corona in alto invece è rimpiccolita anche quella, ma è tale e quale, non cambia niente, solo le dimensioni, non so perché il ministero l'aveva cambiata, comunque è uguale. Un simbolo che racchiude la storia e le tradizioni della nostra comunità e che rappresenta i valori fondanti del nostro vivere insieme. Queste le parole del sindaco di Fano Massimo Seri durante il momento dell'inaugurazione alla presenza degli assessori e della famiglia Carboni. Penso che i luoghi di rappresentanza debbono avere il giusto decoro e la giusta formalità che in questo caso non è banale ma è sostanza. Oggi abbiamo riportato al suo splendore il logo all'ingresso della sede municipale e voglio ringraziare Sergio Carboni che ha dimostrato ancora una volta di amare questa città che si è offerto per recuperare e rifar sprendere il simbolo di Fano. Fra l'altro circa 40 anni fa era stato sempre lui che lo aveva disegnato e quindi oggi simbolicamente abbiamo inaugurato, scoperto il logo. È un bel logo, ex felicità sconcordia, ha anche un motto di grande significato che rappresenta l'identità e il messaggio che questa città vuole trasmettere.